Salve, buongiorno, sono Piero Ristori, sono il presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto e siamo qui alla struttura di residenza di San Giuseppe dove oggi cogliamo l'occasione per finalizzare uno dei nostri progetti principali di quest'anno della mia presidenza che è il progetto Telemedicina. Il progetto Telemedicina nasce praticamente, è un progetto a livello distrettuale, nostro distrettuale, che abbiamo fatto nostro e quindi abbiamo immediatamente aderito e inizialmente si parlava di utilizzare, era rivolto ai medici di base e quindi dare un sollievo ai medici di base per poter superare lo scoglio del Covid e quindi poter seguire i propri pazienti sia di Covid sia quelli critici direttamente dal remoto. Quindi fornire ai medici di base strumenti tali, quelli minimi in sostanza per poter arrivare al saturimetro, i normali parametri che necessitano di sapere. Quindi in sostanza con una app che chiaramente fa parte del progetto veniva data la possibilità di seguire tutti quei pazienti critici senza dover fare, praticamente spostarsi e andare direttamente a trovarli. Quindi in un certo qual modo monitorarli. In più abbiamo contattato la Residenza San Giuseppe la dottoressa Rossi che si è dimostrata insieme alla dottoressa Egidi, si sono dimostrate assolutamente interessate al progetto e hanno aderito anche loro a questo progetto per dar modo appunto alla struttura di poter dotarsi di questa possibilità in più notevole che dà una possibilità tecnica alla struttura notevolmente maggiorata. E quindi oggi è il giorno in cui andremo a consegnare tutti i device, tutti gli apparecchi che fanno parte della fornitura oltre chiaramente a far partire con l'app, quindi da oggi in poi piano piano si inizierà ad aderire al progetto, a sfruttare questa possibilità. Questo grazie al Rotary è per noi un vanto poter avviare questo progetto. Grazie. Grazie a voi.